Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca a uno scontro tra un'auto e una bici. È avvenuto nella tarda mattinata di oggi intorno alle 11.30 lungo la regionale 71 nei pressi dell'abitato di Policiano. La peggio è toccata al ciclista, un uomo di 63 anni trasportato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso a Siena. Sul posto la polizia municipale, la dinamica dello scontro è ancora da ricostruire. Questa mattina c'era stato anche un altro incidente stradale, si è trattato dello scontro frontale tra due auto. I mezzi dell'emergenza urgenza dell'ASL sono intervenuti intorno alle 6 del mattino a Foiano della Chiana, lungo la strada provinciale dell'Esse. Sul posto anche un'ambulanza della misericordia di Castiglione Fiorentino e le forze dell'ordine. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, un uomo di 36 anni e un altro di 33, trasportati in codice giallo all'ospedale di Arezzo. E un'altra incursione, un altro furto all'interno della scuola di Via Tricca, ce lo racconta Chiara Sadotti. Ancora un colpo all'interno della scuola di Via Tricca, finita di nuovo nel mirino dei ladri. La stessa che lo scorso settembre subì il maxifurto di pc e tablet. In questo caso i ladri si sono accontentati di un bottino ben più misero, lasciandosi però alle spalle ingenti danni alla struttura. È successo nella notte tra giovedì e venerdì, la mara scoperta la mattina successiva. Scassinati i distributori automatici di merendine per portare via, oltre ai soldi che contenevano, anche tutti gli snack e le bibite all'interno. Pare che l'allarme non sia scattato e anche questo sarà passato al baglio degli inquirenti che stanno portando avanti le indagini. Lo scorso settembre nella stessa scuola era stato messo a segno un colpo da 70.000 euro, con i ladri in fuga con un centinaio di tablet, riacquistati grazie ad una gara di solidarietà. Dopo qualche settimana un'altra eruzione è andata però a vuoto. Adesso è il terzo ride, da qui la richiesta di video sorveglianza portata all'attenzione del comune di Arezzo per monitorare l'aria esterna della zona, evidentemente abbastanza vulnerabile. E adesso invece con il prossimo servizio andiamo all'interno della terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo perché l'influenza stagionale sta causando danni importanti anche a persone più giovani che appunto necessitano poi delle cure dei sanitari. Sentiamo. Purtroppo siamo in un periodo invernale, è fisiologico che ci sia l'influenza. In questo momento però stiamo vedendo che c'è un combinato disposto di influenza normale, quella stagionale classica, casi sempre covid che continuano a esistere. E abbiamo in questi ultimi mesi una recrudescenza e un picco dell'influenza. Il covid e l'influenza rialzano la testa e così cresce il numero di ricoveri anche all'interno della terapia intensiva di Arezzo, tra i degenti anche giovani. Nell'ultimo periodo, diciamo circa gli ultimi 20 giorni, abbiamo assistito ad un aumento preoccupante dei casi di pazienti con insufficienza respiratoria acuta che necessitano di trattamento ventilatorio sia invasivo che non invasivo in pazienti appunto positivi all'influenza. L'intento di questa informazione è quello di promuovere le vaccinazioni per l'influenza perché probabilmente potrebbero aiutare. Campanelli d'allarme che con le festività natalizie ormai alle porte richiamano alla prudenza. La prima in assoluto è la prevenzione, la seconda cosa nei luoghi di grossa aggregazione sociale utilizzare la mascherina, lavarsi le mani utilizzando anche gel alcolico e in una parola sola stare attenti. All'ospedale San Donato di Arezzo il reparto di terapia intensiva intanto ha riaperto le sue porte ai familiari dei pazienti, ovviamente in fasce orarie prestabilite e nel rispetto di alcune norme igieniche di sicurezza e gestionali. Il paziente ha bisogno di stare con i propri familiari, i familiari hanno bisogno di stare con i pazienti. Un flash mob per dire no alla decisione della regione toscana di aumentare l'IRPEF per la mancanza nel bilancio regionale di circa 200 milioni di euro per le spese sanitarie. Una scelta quella della regione toscana che toccherà circa 600 mila cittadini. Dopo la notizia appunto dell'aumento dell'IRPEF, la CISL di Arezzo ha organizzato per il prossimo 28 dicembre alle 11 un flash mob aperto a tutta la cittadinanza. Si terrà in piazza San Jacopo ad Arezzo proprio per esprimere la propria contrarietà a questa manovra ma anche per aprire un confronto e cercare ovviamente se ci sono soluzioni alternative. Adesso invece apriamo una lunga pagina dedicata al Natale. Partiamo dagli auguri appunto del Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Andrea Migliavanca. Io vorrei che arrivasse un messaggio di speranza perché ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno per le nostre famiglie e per le fatiche che affrontano. Ne abbiamo bisogno per la nostra società che deve avere e sperimentare capacità di sguardo in avanti, stimoli e risorse positive da condividere. Ne ha bisogno il nostro mondo soprattutto per le situazioni di guerra che ormai purtroppo ben conosciamo. È un messaggio che mette al centro la speranza, quello che il Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro destina appunto alla diocesi Aretina. Il Natale vuole essere motivo di speranza non perché come poesia, come sguardo romantico vogliamo dire che le cose vanno bene, ma perché c'è una speranza che viene dal farsi vicino di Dio, dal portare la sua presenza e il suo amore. Lui ci regala l'amore che è il Natale e quella diventa la strada per portare speranza nel mondo. Lei adesso conosce un po' di più la comunità Aretina rispetto ovviamente all'anno precedente, era appena arrivato. Sono stati lanciati più appelli da più parti per le nuove povertà. Insomma, cosa si sente di dire per questo? Noi come Chiesa, soprattutto attraverso la Caritas, ci stiamo muovendo per dare anche risposte nuove a queste povertà che si presentano, che sono nella quotidianità, talvolta nella realtà normale delle famiglie. E quindi vuol dire attivare vicinanza, ascolto, sportelli di ascolto, capacità e realtà di accompagnamento e di risposta anche ai bisogni primari, tante volte, che richiedono riservatezza ma pronta risposta. Lei ha fatto anche alcune nuove nomine e mi verrebbe da chiederle, dal punto di vista della vocazione, insomma ovviamente la Chiesa è un punto di riferimento, voi siete delle guide spirituali per ogni comunità, più grande o più piccola. Quanto aggrega questa Chiesa? Aggrega quanto lei vorrebbe o potremmo fare di meglio? Il meglio si può sempre fare e quindi credo che noi come diocesi, le comunità, le parrocchie, i gruppi devono sentirsi sempre incoraggiati e sostenuti nell'essere capaci di annunciare, non per fare proselitismo, come dice il Papa appunto, ma perché abbiamo qualcosa di bello da condividere. E allora verso tutti, soprattutto verso i giovani e anche nel campo dell'educazione, credo che dobbiamo vivere un impegno sempre maggiore, che sia di prossimità, cioè di presenza lì dove le realtà di vita ci sono. E allora il tema della povertà e della sofferenza delle famiglie, come abbiamo sentito nel messaggio del Vescovo, con i prossimi due servizi noi vi raccontiamo come Caritas e Croce Rossa vanno appunto incontro a questi bisogni. Non poter avere un posto caldo, non poter avere un materasso dove dormire in queste stagioni, penso che sia un segno di grande sofferenza e grande disagio. Proviamo appunto a venire incontro a queste difficoltà. anche per fare una doccia oppure lavarsi con acqua calda, che noi diamo per scontato, ma le persone che venono per la strada invece non lo hanno assolutamente. Ha riaperto le sue porte il dormitorio di Arezzo, gestito dalla Caritas Diocesana. Sino al prossimo aprile darà così ospitalità e rifugio per la notte alle tante vite e margini. Qui abbiamo a disposizione 12 posti letti per uomini, la richiesta è essenzialmente maschile per la maggior parte. Sono divisi in due camere, ogni camera ha la sua doccia, ha comunque i suoi servizi igienici. Quello che noi offriamo a queste persone è un letto con tutto materiale, use e getta, per un discorso anche ovviamente igienico. Lo scorso anno nel periodo di apertura sono stati oltre 2000 i pernottamenti, 63 le schede che sono state compilate corrispondenti ad altrettante persone che hanno fatto richiesta di accesso alla struttura. Un numero superiore all'anno precedente è destinata ad aumentare. Sono persone in cui l'età media non è elevata, si parla di persone che hanno 40-50 anni, prevalentemente di nazionalità straniera. Quest'anno abbiamo avuto già da diversi mesi, anche l'anno scorso, negli ultimi mesi, una predominanza di persone provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh. Sono persone che già qualcuno hanno utilizzato anche in passato l'accoglienza invernale, altre persone invece sono dei volti nuovi. Agli operatori dedicati alla gestione del servizio si affiancano 20 volontari per l'orario serale, 9 per il servizio di pulizia quotidiana dei locali ed un medico per visite e controlli periodici. Le persone che vogliono utilizzare e hanno bisogno del servizio di accoglienza invernale, si presentano al nostro centro di ascolto, a seguito di un colloquio di conoscenza viene dato un pass che gli dà la sicurezza di pernottare per 15 giorni. Cosa lasciano questi mesi di apertura del dormitorio a fine stagione? Lasciano un sentimento ambivalente. Da una parte un po' di serenità, perché non abbiamo risolto la condizione di queste persone, ma almeno gli abbiamo dato un riparo caldo per qualche mese. Si parla comunque di persone, di vite umane, ferite e fragili. Questa è la prima cosa. Un senso di amarezza perché chiuso la nostra accoglienza invernale e noi più di questo non possiamo fare al momento, ecco, queste persone sappiamo che tornano per strada. Qualcos'altro da mangiare? Un po' di pastine? Una cosa di doccia? Sì, ho le pastine con la brioche, cioè una brioche con la marmellata, va bene? Un po' di tè caldo, ok? Sono le 10 di sera, fa freddo, le unità di strada della Croce Rossa sono uscite per portare un po' di tè caldo, un pasto e anche degli indumenti ai senza tetto. Sono stanco, veramente, sono stanco. Non posso anche, non lo so, senza soldi, senza pensioni, senza tutti, senza casa. Sono storie, a volte simili, a volte però anche profondamente diverse. Sì, in tanti comunque si aprono, raccontano le loro storie e raccontano il vissuto, il disagio che passano ogni giorno comunque in queste strade e soprattutto in questo periodo di freddo. Cerchiamo comunque, oltre che portare comunque bevande, cibo caldo e comunque coperte, anche un supporto a livello comunque psicologico, ascoltare, scambiare due chiacchiere con queste persone. Grazie, auguri a tutti, buon Natale, buonanotte, ciao! Ormai c'è una mappatura storica, chiamiamo, della città perché sono tanti anni che facciamo questo servizio. In più ci aggiungiamo le segnalazioni che arrivano dai privati cittadini o che arrivano direttamente al numero unico di Croce Rossa che è il 1520. Si può segnalare tutto, si può segnalare i bisogni propri, i bisogni degli altri, segnalare appunto il luogo dove è presente un senso fissa di mora oppure segnalare, richiedere anche aiuto, segnalare quindi la propria condizione di difficoltà in modo tale che Croce Rossa possa prendere in carico questa situazione e provare a gestirla nel migliore dei modi. Che cosa lascia tendere questa mano a chi ha un momento di difficoltà? Ma me lo sono mai posto, lo faccio volentieri, punto e basta, ecco. L'altra faccia del Natale, quella indubbiamente più scintillante e se vogliamo anche più commerciale, è ovviamente rappresentata in questi giorni dalla città del Natale. Tante le iniziative che andranno avanti alcune fino al giorno di Capodanno, fino al primo gennaio, altre invece fino a domenica 7 gennaio. E ovviamente per i più piccoli, nelle prossime ore, c'è la grande attesa dell'arrivo di Babbo Natale. Mancano davvero poche ore all'atteso arrivo di Babbo Natale, pronto con le sue renne a far visita a tutti i bambini. Ad Arezzo centinaia le letterine piene di desideri che in queste settimane i più piccoli hanno scritto nella casa di Babbo Natale in Piazza Grande, una delle tante attrazioni della città del Natale. La manifestazione quest'anno ha battuto in termini di presenze tutte le edizioni precedenti. Andrà avanti fino al 7 gennaio, ad esclusione dei mercatini tirolesi che chiuderanno invece il primo gennaio. Quindi saremo sempre aperti sostanzialmente tutti i giorni, anche nel giorno di Natale di Santo Stefano, dalle 10 alle 21, e quindi insomma aspettiamo tutti coloro che vogliono trascorrere anche delle festività ai mercatini. Una volata lunga perché arriviamo al 7, diciamo con volumi decisamente diversi da quelli che abbiamo visto fino ad oggi, ma è fisiologico, è normale. Oggi è un buon weekend tranquillo, così come lo saranno i prossimi. Vedremo di alimentare un po' anche le attrazioni, i motivi di interesse da qui alla Befana perché poi l'anno scorso abbiamo avuto piacevoli sorprese anche in quel periodo. E a Castiglian Fibocchi, sempre parlando di Natale come ormai tradizione da tanti anni, il sindaco Marco Ermini ha portato gli auguri e il regalo dell'amministrazione comunale ai più anziani, in questo caso agli over 90. Un dono, una bottiglia di olio di oliva, frutto della raccolta delle olive comunali a cui hanno collaborato anche i bambini della scuola dell'infanzia, c'era due volte nella foto. Vedete infatti nonna Rosina, classe 1926, appunto la più longeva del paese. Un altro appuntamento, si terrà con il pranzo conviviale venerdì 29 dicembre offerto dall'amministrazione comunale agli over 75. Adesso con il prossimo servizio invece ci spostiamo a Cortona dove appunto anche nella cittadina della Valdichiana vanno avanti non solo per questo weekend di Natale ma anche oltre tutte le iniziative appunto legate alle festività. Un ponte di Natale ricco di eventi a Cortona, anche nei giorni della vigilia, sino dopo Santo Stefano, prosegue Natale di stelle, luci e riflessi. La programmazione offerta dall'amministrazione comunale con la regia di Cortona Sviluppo e la collaborazione di artisti e associazioni. Natale e Santo Stefano saranno così contrassegnati dal ritorno del presepe vivente a Pietraia appuntamento alle 17.30 e alle 19.30. Il 26 dicembre nella cattedrale di Cortona alle 16.30 invece il concerto I bambini cantano il Natale alle 17 poi in Piazza della Repubblica al Light and Fire Show con le scintille dei giocolieri acrobatici. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero come le attrazioni fisse ogni sera e il Light Mapping in Piazza della Repubblica e i mercatini in Piazza Garibaldi e Signorelli. Tutto pronto anche per gli eventi di San Silvestro e Capodanno. Il 31 gennaio Cortona proporrà infatti la consueta festa in Piazza della Repubblica. Il primo anno invece si aprirà con la quindicesima edizione della colazione al museo. Alle 17 del primo gennaio infine al Teatro Signorelli si esibirà la coro-orchestra. Tempo di Natale, tempo soprattutto di presepe. Allora la rievocazione appunto della natività assume davvero tantissime forme. Tra quelle più seguite indubbiamente ci sono i presepi viventi. Allora per la giornata proprio del Santo Natale lo avete appena sentito a Pietraia di Cortona si rinnoverà questo appuntamento. Per il giorno invece di Santo Stefano il 26 di dicembre ci sarà la prima uscita del presepe vivente di Monterchi-Leville. Un appuntamento anche questo molto atteso. Sono addirittura 57 le postazioni che sono state allestite. Si replica poi anche in Valdichiana esattamente a Castiglion-Fiorentino e sempre in Valdichiana invece a Oliveto. Sentiamo. Tutti i cittadini della provincia di Giudea dovranno recarsi nella loro città di origine per farsi censire. Detti cittadini dovranno dichiarare nome, età, residenza attuale, il numero dei membri della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto e il lavoro svolto. Dovranno inoltre fornire una stima esatta del bestiame e delle piante in loro possesso. Tante scene di vita dell'anno zero, tante persone impegnate, una comunità intera per questo presepe vivente. Sì, devo dire c'è una grande partecipazione, i figuranti sono aumentati, questo ci fa piacere perché comunque ci uniamo in un momento di festa legato al Natale e c'è tanto entusiasmo, e tante idee nuove, dico la verità, a volte non facili da realizzare, però sì, ci siamo. Sono tornati, è tornato un quadro che era comunque già presente nel presepe, i lebrosi. Sì, un gruppo di amici che si sono appassionati a quest'idea e hanno creato un quartetto avvincente, stanno camminando qui per le vie del borgo, hanno i campanelli ai loro bastoni e quindi sono annunciati in anticipo onde evitare contagi. Il presepe sarà accompagnato ovviamente anche dalla musica, il coro dei bambini e poi le bande, no? Sì, esatto, ci sono i bambini, gli angioletti che cantano a intervalli alle 4, alle 5, alle 6 e un quarto e tra un coro e l'altro degli angioletti c'è la banda neocreata, diciamo, della parrocchia con vari strumenti a fiato e insomma che eseguono i loro brani classici di Natale. Una fatica, immagino comunque piacevole che viene poi ripagata ovviamente dai visitatori. Sì, c'è un buon flusso di persone, siamo contenti, è un modo più intimo di vivere una domenica pomeriggio insomma in compagnia e sì, in intimità. Ultimo servizio di questo TG speciale insomma pre-natalizio vi raccontiamo la storia di Marco Cerofolini una storia che arriva da Quarata dunque alle porte di Arezzo ma è davvero un bellissimo esempio che ci faceva appunto piacere raccontare proprio in questa atmosfera natalizia. Sentiamo. Non sono un abile, un maestro viaggiatore mi piace dove abito e da quando è successo l'inconveniente della malattia quest'estate che ho avuto la possibilità con la carrozzina di uscire perché per quattro anni non sono potuto uscire mi è venuta l'idea di vedere il mio paese in un altro modo. Marco abita a Quarata piccola frazione alle porte della città di Arezzo un paese che regala scorci inaspettati ma che nasconde anche tante barriere per chi si muove su una carrozzina elettrica barriere che Marco ha voluto superare al tempo stesso denunciare con un'arte quella della fotografia. Mi è cascato il cellulare di mano quando sono andato a raccoglierlo mi si è sbloccato lo schermo e ha fatto una foto lui da sola io la sera ho guardato il cellulare galleria nuova immagine e dico ma dove l'ho fatta questa foto? non avevo riconosciuto nemmeno io il posto e poi ho frugato nei pensieri sicuramente e mi sono reso conto che era un angolo del paese vecchio vecchio e mi è venuta l'idea proviamo a vedere un po' Quarata invece che in piedi seduto e è venuta fuori questa idea qua mi hanno aiutato degli amici e si è andata solo sicuramente non ce l'avrei fatta il babbo soprattutto è stata Quarata vista da qui da qui dalla carrozzina io i miei strumenti sono io prima di tutto la carrozzina il cellulare e un dito all'età di 35 anni gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla fino al 2018 ha continuato a lavorare poi un peggioramento ho iniziato a stare a casa iperattivo prima quindi io fermo mi sono trovato disorientato da tutto questo poi è stato il covid e poi il covid ha coinciso con il peggioramento mio il peggioramento mio due bambini in casa è stata faticosa però poi ho trovato un modo di avere questa carrozzina e da febbraio di quest'anno che riesco a uscire in qualche modo a muovermi ha funzionato rimettersi in gioco funziona sempre Marco però non si è arreso e con questa mostra peraltro gli scatti sono anche acquistabili vuole proprio dimostrare prima a se stesso poi ai suoi due figli e a chi vorrà leggere questo messaggio che nella vita si può sempre cambiare prospettiva farlo spesso ti apre strade che diversamente non avresti mai percorso mi piace portare al massimo quello che io sono capace a fare il talento chiamavano così qua in questa situazione 4 anni 5 mi ci è voluto per capire cosa ero in grado di continuare a fare cosa sono riuscito a trasmettere prima di tutto per me mi è rimasto l'utilizzo di una mano e quella mano la devo sfruttare quello che ho sfruttato è il risultato insomma quello che ho fatto cosa posso insegnare a fare mille cose però sfrutta al massimo quello che hai e questo è il messaggio mio per me prima di tutto e poi anche per i due bambini adolescenti che ho e mi piace credo che sia un bel messaggio sfrutta al massimo quello che hai sempre si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale io vi ricordo alcuni appuntamenti della nostra programmazione che vi faranno compagnia se vorrete in queste giornate di festa domani 24 dicembre dunque la vigilia di Natale alle 21 andrà in onda l'ultima commedia del Polvarone vi faremo insomma compagnia speriamo facendovi fare anche quattro risate poi non mancate appunto di seguire il nostro canale perché ci saranno concerti e ancora musica insomma tanta voglia di stare insieme a voi per quanto mi riguarda è davvero tutto auguro a voi a tutte le vostre famiglie a tutti i vostri cari un sereno Natale arrivederci a tutti i nostri cari a tutti i nostri cari